E' buona... appena smettere di traballare, buongiorno gente e bentornati in questo mio nuovo video Sto registrando questa clip, soprattutto l'intro e l'altro, di domenica, sì, il giorno in cui spero state guardando questo video E va bene, il resto del video, quello centrale, il focus, l'ho registrato nell'arco della settimana Comunque appunto, come ben sapete, durante questa settimana c'è stato il Black Friday Che appunto, dato che sto registrando domenica, domani sarà l'ultimo giorno, ovvero il Cyber Monday Poi molto probabilmente ci saranno altre offerte un po' più piccoline, però il fulcro era questa settimana e domani E di conseguenza, dato che c'è stato il Black Friday, ho un po' di pacchi da unboxare Però questo qui sarà il primo unboxing dei due, il primo ve lo porto questa settimana E il secondo ve lo porto, speriamo, settimana prossima, massimo quella dopo Per il semplice fatto che, dato che ci sono stati tantissimi ordini, per l'appunto, dagli utenti in questo periodo I pacchi non mi sono arrivati tutti subito, ma ce ne saranno anche altri che mi arriveranno dopo Comunque direi di non perdere tanto altro tempo e iniziamo Allora ci siamo Cioè, ragazzi, guardate Cioè, quanto camera è grande sta roba Non rendendo la fotocamera, come faccio? Non ho un metro qua in questo momento Vabbè, prendete considerazione del mio braccio Ecco Cioè È assurdo, è abnorme In teoria, se Amazon ha detto giusto, qua dentro ci dovrebbero essere solamente due articoli Che in realtà fanno a comodo, dovrebbero essere molto belli Per cui direi di parlare un po' meno e apprestarmi ad aprirlo Allora Ma no, è assurdo che è tantissimo Perché poi, come vedete qua, ho messo anche la seconda camera Che spero che riprenda bene Perché è talmente grande che non rientra neanche nell'inquadratura Allora, 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 allora Che in realtà di questo, quello che c'è all'interno Soltanto un articolo era sfruttato e l'altro no Allora Madonna, che bello, che bello Ovviamente tutta la carta, vabbè, buttiamo via Fantastico Allora, vabbè, come vedete da qua, non so se si riesca a vedere Comunque Andiamo il primo pacco E' quello anche più grande E sono delle casse studio Che in teoria dovrebbero essere quelle Con il migliore rapporto qualità-prezzo Perché mi servivano delle casse Perché come vedete da qua, insomma, non so se si veda Vabbè, vi faccio vedere dopo E mi si sono rotte le mie vecchie casse Che avevo delle casse della Trust Due casse con il subwoofer Dato che mi rompeva le scatole avere un subwoofer sotto la schiena e in mezzo ai piedi Voglievo qualcosa che fosse senza subwoofer E dato che a me piace ascoltare anche la musica con i bassi Ho pensato che questo fosse un ottimo compromesso Che ho pagato appena un centinaio di euro Tiro già direttamente fuori anche il secondo Perché così buttiamo via sta scatola qua Qua ci sono le Philips Hue Se vi ricordate dallo scorso unboxing avevo comprato Alexa e una spina smart Che tra l'altro Ok Che tra l'altro è quella che sta facendo funzionare in questo momento il mio riscaldamento Anzi Alexa spegni il riscaldamento Fantastico mi ha ascoltato per bene Spegni il riscaldamento Perfetto Ma buttiamo via sta scatola Madonna quant'è grande Allora direi direttamente di passare Andiamo con queste qua Allora qui c'è il libretto di istruzioni con ste robe qua Non so cosa siano Saranno i gommini per non strisciare per terra Tiriamo via il polistirolo E voilà Prendiamo una casa Ah si 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 Diciamo che rispecchia perfettamente le aspettative in grandezza Vediamo anche l'altra Madonna che bella C'è l'altra qua Si ci saranno le cavetterie Che poi tra l'altro queste casse qua L'un l'altra non è che siano già collegate tramite un cavo come quelle normali Ma hanno Madonna che mi è cascatuto Ma hanno il cavo Non so se avete presente Tipo elettrico Rosso e nero Eccoli qua Gli spinotti Elettrici Mi sembra che sono l'elettricista Qua vabbè Allora Prima scatola Andata Allora Andiamo a togliergli via la pellicola Ma l'ho messo week Ehm E come Ah ok L'ho aperto sopra i set Tirava fuori da sotto Vabbè Ma lo sto sudando Sto sudando 10 camicie per fare sta roba Perché con il fatto che rischia da mettere a caldo Ho i pantaloni tipo di pile Madonna sto sudando Allora Allora Dovrebbe essere plastica penso Vedi che Che bel woofer Ok dietro ci sono le prese per appunto collegare i due cavi elettrici Rosso e nero Uno Eccola qua I cavetti Che questi qua Beh si ok C'è il cavetto Non so che nomi abbia Non ti riesce a un RCA No RCA forse è l'assicurazione Forse no Vabbè Comunque sono i cavetti Averete già visti questi cavetti Guardo su un nordosano bianco Col jack Per collegarci appunto al computer Dopodiché appunto i cavi elettrici Qua per collegare la cassa all'un l'altra Poi c'è anche un cavo Jack jack Come mai Boh vabbè vedremo E poi c'è ovviamente il 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 cavo di alimentazione Spero sia abbastanza lungo E tra l'altro è una roba in fase alle scatole Che avevo appena sistemato la scrivania Tipo una settimana fa Tutto fissato Tutte le prese qua e là Adesso devo rismontare la scrivania Per risistemare tutto Bello E adesso Apriamo No e devo ricordarti Devo girarla Ok Ma io spero di non doverle rimandare indietro Perché le sto letteralmente Spasciando tutto Allora Ok Allora qui davanti c'è La regolazione del volume Il tasto di attenzione Spegnimento Ok allora dietro c'è l'inserimento Per i cavi Per questi due cavi qua Come cavolo RCA Ah abbiamo indovinato RCA Sì Poi qua ci sono tutti i cosi Per regolare gli alti E i bassi Qua in teoria c'è 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 ora adesso L'attacco Per collegare Boh non so Se non è che mi intenda troppo di audio So soltanto che voglio tanti bassi Mettiamo da parte questi Intanto E passiamo Alle Clipsy Allora C'è il motivo per cui le ho comprate Vabbè prima Perché erano fighe E avrei voluto sempre comprarle Secondo perché erano in sconto E perché se vi ricordate Dall'ultimo unboxing Avevo comprato la lampadina smart Che tuttora è collegata Però la roba assurda È che sentite Alexa Spegni luce della camera Eh è incoglionita oggi Alexa Spegni luce della camera Ottimo Vi sembra Vi sembra che si sia spenta Alexa Metti luce della camera Al 50% Ottimo Cioè e funziona così Cioè in poche parole Praticamente Cioè in poche parole Se dico ad Alexa Di aumentare o diminuire L'intensità di luce Lo fa Se gli dico L'accendere O spegnerla Non lo fa Se vado dall'applicazione proprietaria Quindi iFix Me la accende E me la spegne Cioè e mi aumenta E diminuisce l'intensità luminosa Se vado da Apple HomeKit Fa la stessa roba Però non funziona L'Alexa Non so Ho provato in tutte le maniere Però diciamo che comunque L'ho usato un po' come pretesto Però L'avevo pagata 5 euro Questo l'avevo pagata 100 Per cui Allora Abbiamo Il foglio Di Philips Ah e tra l'altro Tra l'altro Roba figa Che le ho prese Non a caso Ma le ho prese Anche colorate All'interno C'è 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 L'alimentatore Ahendare C'è 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 T'È c'è Thanos пре bella 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 comunque cavolate a parte madonna che disastro che c'è in stacamere sto vabbè d'altro non si è continuato a lanciare la roba giù per terra vabbè dai direi a sto punto di collegare il tutto e ci vediamo dopo e signori eccoci qui passata un'altra giornata è arrivato un altro pacco di amazon avete visto un po non si capisce troppo però si c'è la lampadina qua che sta facendo la luce ma dopo vi faccio vedere anzi se volete fare vi faccio anche vedere in anteprima alexa metti luce della camera bianca alexa metti luce della camera arancione alexa metti luce della camera blu il fatto che non da proprio il massimo di atmosfera proprio un po colpa anche della fotocamera comunque non dilunghiamoci troppo apriamo questa confezione in teoria se è quello che credo dovrebbe essere chissà che infatti c'è questo ho fatto un investimento per l'inverno ho ordinato un paio di ciabatte che poi spero tra l'altro che mi vadano anche bene vediamo subito guarda che belle che sono suole in gomma e belle imbottite eccoci qua lo proviamo subito madonna che strana forma che hanno sono tipo quadrate no perché quelle che avevo prima erano queste sono delle ciabatte insulse dell'ikea sono strapiene di peli tutte consumate no ma comunque sono assurde ste robe cioè vi faccio vedere allora a parte il mio sexy pigiama si perché cioè nell'inquadratura bisogna soltanto apparire belli sopra non serve sotto è un po' come nelle video lezioni cioè io non le faccio più perché come sapete ho finito la scuola l'anno scorso però questo era il concetto comunque cioè guardate sono davvero tipo rispetto a queste va bene dai comunque ragazzi alla fine il lab delle Philips Hue alla fine l'ho collegato di sopra in soffita dove c'è appunto il router perché inizialmente pensavo si potesse collegare anche tramite wifi però è soltanto tramite cavolà che in realtà non mi lamento quindi meglio così la prima lampadina l'ho collegata appunto come vi ho fatto vedere al lampadario che poi è una figata cioè hanno 16 milioni di colori una roba assurda mentre la seconda lampadina è ancora qua che devo aspettare che mi arrivi un altro prodotto e dopodiché la andrò a posizionare penso in salotto sì perché qui dentro non ci sono tante altre robe a cui posso collegare mentre passando all'altro prodotto che avevo comprato sono le fantastiche queste fantastiche casse che devo dire che hanno un bel 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 suono cioè per quello che costano sono veramente delle casse fantastiche dato che le ho già collegate e qui in questo momento non ho compito perché c'è la mia sorella vi faccio sentire una canzone dal telefono giusto perché farvi capire molto probabilmente al 99,9% non si capirà effettivamente dal video la qualità delle casse però cercate di immaginarvelo vabbè vado a mettere la canzone più classica per testare i bassi di queste casse ok allora ho messo il telefono al massimo e le casse sono al minimo c'è questo è il massimo sta vibrando tutta la scrivania madonna ragazzi è tipo la terza o quarta volta che registro questa intro non ne posso più speriamo che questa sia la volta buona comunque questo video si conclude qui e è un ultimo accorgimento che devo farvi e che mi sono accorto un po' di giorni dopo l'ultima apertura di pacco che ho fatto è stata riguardo a questo cavetto qui che mi serviva per collegare le casse sia ad Alexa che al mio computer solamente per il fatto che mi sa che dovrò rimandarle indietro perché vi avevo detto che funzionava ma in realtà questo qui è un cavo con l'attacco uno del micro da una parte del microfono vediamo se lo riesco a mettere a fuoco ok vedete che c'è il simbolino del microfono e dall'altra delle cuffie ok il punto qual è che se collego il jack col simboletto delle cuffie a uno dei due dispositivi a un dispositivo insomma generale l'audio funziona bene mentre se lo collego col jack del microfono l'audio si funziona ma è basso e non capisco il motivo però vabbè troverò una soluzione in questi giorni comunque ripetendo questo video finisce qui come al solito vi invito a lasciare un bel like qui sotto e seguirmi sul mio profilo vista che come al solito vi lascio qui sopra in sovraimpressione qui sotto in descrizione condividete il video con amici, parenti, zini, nonni, cugini, trisavoli e quello che ne è se avete voglia mi fareste un piacere ed infine se non l'avete ancora fatto oltre ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video bella ciao